Le tecnologie digitali, la digitalizzazione dei fenomeni fisici sono in grande evoluzione. Fino a un anno e mezzo fa si pensava che un'azienda, un processo produttivo fosse il traguardo, non a breve e non a medio termine, di questo processo di innovazione. In realtà durante il percorso ci si è trovati a doversi interfacciare con l'intelligenza artificiale che in realtà si è inserita in questo percorso. Quindi il nuovo obiettivo di fondo è quello di una gestione dei processi fisici basati sui dati, basati sui dati raccolti in tempo reale. E' chiaro che quindi è estremamente trasversale quello che si è sviluppato, diciamo, che si raccoglie come risultato nell'ambito dei processi automatici di produzione e il follow up di come noi abbiamo ricevuto l'input da parte di IndustriFia.null, che è un progetto tedesco, voluto fondamentalmente nell'ambito del manufacturing. Contemporaneamente in America l'applicazione delle tecnologie digitali invece è molto più trasversale, cioè il manufacturing è una delle aree economiche nelle quali viene applicato. Di conseguenza c'è, soprattutto nell'ambito della smart city, sicuramente ci sono dei risultati da valutare molto importanti. Da tanti anni il gruppo ERA sta facendo un percorso di digitalizzazione e di tecnologizzazione dei servizi di raccolta e spazzamento rifiuti e soprattutto è partita dal sensorizzare gli asset del campo fino ad arrivare ad analisi evolute dei dati per cercare di efficientare le operation e migliorare la qualità del servizio offerto. Questo processo ha coinvolto tutte le società del gruppo e tutti gli operatori del gruppo, anche i fornitori terzi, e ci ha portato oggi ad avere dei progetti di innovazione su tecnologie innovative, di IoT, di intelligenza artificiale, di analytics evoluta che ci consentono davvero di migliorare i servizi che offriamo.